Il Covid-19 entra anche nello spogliatoio della Vis Pesaro. L'amara sorpresa al rientro agli allenamenti d'inizio anno arriva al primo screening di tamponi di squadra dove sono emersi due casi di positività al virus fra i calciatori e altri due casi all'interno dello staff tecnico. La Vis aveva chiuso l'anno fra le poche squadre esentate da contagi, ma ora anche Pesaro deve fare i conti con un panorama poco rassicurante in una Serie C che al primo giorno dell'anno ha deciso di rinviare l'intero primo turno del 2022, quello che era in programma sabato 8 gennaio e che è stato posticipato al 2 febbraio. Lo sguardo per la Vis Pesaro si sposta dunque dalla rimandata trasferta di Pontedera al debutto casalingo col Pescara del 15 gennaio. Un Pescara che quasi in simultanea alla Vis ha annunciato ieri sera la positività al covid di tre suoi calciatori. Attualmente dunque i contagi hanno messo piede in più di metà degli spogliatoi delle squadre di Serie C dove, come a Pesaro, tutta l'attenzione si proietta sulla sequenza di tamponi ripetuti incrociando le dita che la situazione di contagio non si allarghi a macchia d'olio portando ad altri rinvii.